le palline di natale finalmente è natale cinzia ha sette anni e oggi va a casa di sua nonna ad aiutare a fare l'albero di natale quando cinzia arriva la nonna parla al telefono e lei e la mamma la aspettano mentre bevono un caffè poi la mamma di cinzia va via cinzia e sua nonna cominciano a togliere l'albero di natale dalla scatola e a togliere le palline colorate dai sacchetti la nonna oggi deve fare delle telefonate per il suo lavoro e allora chiede a cinzia di decorare l'albero da sola cinzia risponde che non c'è problema e la nonna se ne va nel suo ufficio a finire il suo lavoro cinzia guarda i cartoni in tv mentre attacca le palline colorate sull'albero ad un certo punto cinzia trova una scatola piena zeppa di ciondoli per l'albero con tutte le forme e di colori e pensa che sono molto belli ad un certo punto cinzia si accorge che i ciondoli sono fatti di cioccolato ricoperto di carta stagnola colorata cinzia vuole domandare a sua nonna se può mangiare un ciondolo di cioccolato ma quando bussa alla porta sua nonna le dice che è molto indaffarata allora cinzia ritorna in salotto e prosegue con il suo lavoro i ciondoli di cioccolato sembrano deliziosi e decide che siccome sono davvero tanti non succede niente se ne mangia uno soltanto cinzia scarta un ciondolo e assaggia il cioccolato è un ma è sempre cioccolato e cinzia lo mangia tutto mentre guarda la televisione dopo un po cinzia decide che non succede niente di male se ne mangia un altro in fondo ce n'è una scatola piena questa volta la bambina mangia un ciondolo che ha la forma di un trenino lo scarta e lo assaggia mentre mette le palline dorate sull'albero cinzia ha finito di decorare l'albero e aspetta sua nonna intanto mangia un pendolo di cioccolato con la forma di una casetta e un altro con la forma di uno scoiattolo toglie la carta stagnola colorata dal cioccolato prima di mangiarlo dopo un po cinzia sente un dolore molto forte alla pancia e comincia a gridare la nonna va a vedere cosa succede e trova cinzia che si rotola per terra per il mal di pancia la nonna si spaventa e corre vicino alla sua nipotina ma non sa che cosa fare cinzia grida dal dolore e piange allora la nonna chiama un'ambulanza e i paramedici arrivano dopo cinque minuti e portano cinzia all'ospedale le palline di cioccolato erano del natale del 1985 e il cioccolato era davvero vecchio perciò i dottori fanno la lavanda gastrica a cinzia la bambina giura di non mangiare più niente senza prima chiedere se può il giorno di natale cinzia è troppo debole per lasciare l'ospedale e così tutta la famiglia inclusa la nonna che è mortificata passa la vigilia di natale in ospedale per fare compagnia a cinzia per fortuna cinzia si sente molto meglio